Viva troppo! Sto su spazio. E ho detto tutto. Credo che... che è un libro di scambi. Lei fa parte della MLEVHOBE DE NEGA, la nostra organizzazione segreta. Si chiama la SVEHOBE, beh? Che fai, imbecille. Felix, Felix. Rispondi. Pronto? Felix. Oscar! Che fine hai fatto? L'Ivasata ritorna. Non ho capito. Comunque... Grazie al cielo, guarda. Meno male che ti sento, perché tu non sai dove sono finito. Ma certo che lo so. Ti ho chiamato io e lo vedo anche. È vero, è vero. Sì. Tu dove sei? Io sono al MLEVNE. Al MLEVNE. Che è al MLEVNE? Dove parlava di soglia, Felix? No, no, no. Con la CIMOSA. La CIMOSA. Dove introdivi a Roldi? Non ho mai introdito il Roldo in vita mia, io. Ma forse non ti ricordi nulla, Felix? Io non mi ricordo nulla. Non capisco. Ascolta, la CIMOSA. Dove hai trovato? L'hai trovata Edna? Edna? No, non l'ho trovata. Sono disperato. Non la trovo Edna. Non mi stane, Felix. Elsa forse... Intimandato. Che hai detto? Edna. Edna. Elsa o Edna? Edna. Edna forse a stirto. Dovrebbe essere con Gimmi. Con Gimmi. Seppantone, Edza nuda. Edna è con Gimmi mezzanuda? Ma chi è sto Gimmi? Un nappone. Un nappone. Calmati. Ma perché è mezzanuda con questo qui, lei? Calmati. Come faccio a calmarmi? Sto dall'altra parte del mondo. Non so neanche come ce l'ho finito. C'è Edna che sta mezzanuda con sto maffone e qua sto Gimmi. Ma come faccio a stare calmo? Stai calmo con la cimosa. Guardati attorno. Verso le piramidi. Sì. Vedi qualcosa? Sì vedo... C'è una cosa che si sta avvicinando. È un allope. Cos'è? È un allope. Quello significa che Edna da quelle parti. È un allope? Sì. Ma è una cosa buona. È uno scorcipette ma più pagoce. Quindi è positivo? No. No. Camuntoni con la cimosa. Ah perché è camuntoni. È una specie di grumpio. Con i venti orati. E quindi che... Presto all'uovo al telefono. All'uovo al telefono? All'uovo al telefono. Io... All'uovo al telefono. Sotto il telefono. Devo alluvare il telefono. Che devo fare? C'è uno sterto. Eh? C'è uno sterto sotto al telefono. Sì c'è una cosa. Non so se è uno sterto. C'è però... Eh svimbalo. Questo qua. L'ho toccato adesso. Ma cosa fai? Cosa hai fatto? L'ha appeggiato. L'hai attivato. E quindi fa anche un ticchettio. È in meno di trenta secondi. Se non esplode. Ma che è una bomba? Ma è una bomba? No, è peggio. È un fronte. È un fronte? Dai. E quindi che devo... Che devo fare? Aspettalo. Per usare i numeri. Devo dire i numeri? Sì. Che numeri dico? Tu, 21, 28, 28, 24. Ma che numeri sono? Che ti ha detto? Dai, passo chiudo. Vembalo. Che passo chiudi? Devo dire i numeri. Ho trento... Quattro. Fine della terza puntata. Fine della terza puntata. Fine della terza puntata. Aspetta un attimo. Fine della terza puntata. Caro maestro... Bene, bene. Come può vedere... Non male, non male. Come può vedere... Gallina, benissimo. È arrivato il momento che... Perché questo è tutto... Lliore anche…